salve e ben ritrovati a tutti voi a questa nuova edizione dell'info news della camera di commercio italiana per l'ungheria è un grande piacere che all'interno di questo numero potrete trovare la nostra nuova edizione della rivista il ponte della camera di commercio la troverete in formato digitale ma vi anticipo che stiamo provvedendo anche a stampare in formato cartaceo oltre al nostro sito internet la potete trovare anche su tutti i nostri social oltre a questo troverete anche la raccolta dei nostri articoli di quanto è accaduto in camera di commercio negli ultimi sei mesi sono stati dei mesi intensi anche tragici purtroppo ma ecco noi continuiamo sempre all'insegna dell'insieme per crescere continuate a seguirci perché ci stiamo preparando con nuovi eventi e mano a mano vi invieremo i nostri inviti a presto e grazie per essere sempre così fedeli a noi insieme per crescere